Passiamo ora al primo brano che avete in programma, che è Carmen, arrangiamento di James Carnot, musica di Georges Bizet. Il capolavoro di Georges Bizet è sicuramente Carmen, opera ispirata al folklore spagnolo, è considerata uno dei primi esempi di opera realista francese, per la drammaticità della narrazione e la verosobviglianza della vicenda. Il testo dell'opera è un attratto da una novella dello scrittore francese Prosper Merimé. In effetti Bizet portò il teatro musicale francese alla pari della contemporanea cultura letteraria con la sua capacità di cogliere il colore, il senso della realtà, una realtà spesso esotica ma di un esotismo sobrio, conciso, senza fronzoli o sbavature e con appassionata ricchezza del suo linguaggio armonico e della sua orchestrazione. Questa bella suite raccoglie i celebri temi dell'opera carne, come Prelude, L'amor è una sola belle, Entracht, Vivant, 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 Lettore, carne. Applausi Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.